e la fa passare, e la fa passare, e di qui si passa poi alla Siria e ai compagni del reto. Cosa avviene nel corpo dello Stato italiano? Che di passo in passo si trasforma, avviene una mutazione genetica, chiamiamola, delle stesse forze armate italiane. Cioè, ora, intendiamoci, non è che se uno è un pacifista, la guerra vorrebbe un mondo senza esergiche e senza guerre, ma stiamo con i piedi in terra, diamo un giudizio politico. Quindi, in pratica, che cosa è avvenuto? E terminiamo con questo, che proprio di pari passo, da quando l'Italia partecipa alla Prima Guerra del Golfo del 91, vi ricordate, i più, dico, quelli che hanno piano, vi ricordate i tornado italiani che vanno a bombardare i piloti, i catturati, i poverini, i miglior fede in diretta, ecco tutte queste cose qua. Bene, da allora, proprio una volta con il cionone, una volta terminato questo, io ero, andai negli Stati Uniti per partecipare l'anno seguente a un convegno a New York dell'altra America, chiamiamola, con Ramsey Clark e altri. Ramsey Clark si era già molto dato da fare per dimostrare che in Iraq venivano contro... Si recò in Iraq durante la guerra a un'equipe televisiva per filmare le prove, diciamo, che venivano colpiti o gli obiettivi civili, ecco, questo era... Comunque ci troviamo un anno dopo e poi a Washington, a un istituto di ricerca, dove avevo delle conoscenze, ebbi i documenti proprio di prima mano, perché allora era un'epoca, non c'era ancora internet, perché, ovviamente, dove andate a procurare sotto forma cartace, i primi documenti del riorientamento strategico. Gli Stati Uniti prendono la Prima Guerra del Golfo come un tornante per, praticamente, scrivere la strategia che poi si è attuata, cioè scrivere nero su bianco, se lo leggite ora, ci sono i passi che poi hanno fatto. E questo è un altro aspetto da considerare. Naturalmente, no. Poi se uno è cieco, non legge lo scritto. E facevamo, ritornando bene anche Domenico Gallo, magistrato, pubblicamo poi con Balducci, le edizioni di tutta la fascia di Balducci, un libro che è intitolato La strategia dell'impero. La strategia dell'impero. In questo libro, questo che è un libro, una raccolta di documenti fatta da Gallo, Allegretti e me, Allegretti era un costituzionalista, Umberto Allegretti, molto bravo, e le facevo questo libro per dimostrare che cosa stava avvenendo. Cioè, praticamente, il nuovo modello militare statunitense che diceva che ormai bisognava allargarsi in quanto a qualunque area critica, perché le minacce all'Occidente erano molteplici, non più ben identificabili, cioè perché non c'era più il nemico sovietico, quindi non più identificabile, e bisognava però attrezzarci per intervenire nelle aree di critica. Questa politica poi passò alla Nato e inoltre è diventata la politica ufficiale armata. Ebbene, in quel momento, nel 91, era appena finita la guerra, la prima guerra del Polpo, in Italia appare la prima bozza, diciamo, del nuovo modello di difesa. Allora c'era il ministro della difesa Ronnone, un nome che non credo passerà nei libri di storia, ma comunque me lo ricordo, il ministro Ronnone. Bene, in quel libro c'è un punto molto preciso, cioè che il compito dell'Italia, delle forze armate italiane, non è più e soltanto la difesa della patria, ma degli interessi esterni dell'Italia. Questo è il comitato. E poi si descrive dove sono questi interessi esterni. Sono in un'area molto vasta e che a sud arriva al golf. Dove sono le materie prime da cui dipende il nostro benessere, la nostra economia e così via. Ebbene, il questo che allora veniva definito un nuovo modello di difesa, poi è diventato il modello italiano, ha praticamente scardinato la Costituzione via via, senza mai essere discusso in quanto tale in Parlamento, mai è stato discusso in quanto tale, cioè come visione completa, ma è stato sempre portato nelle commissioni in Senato alla Camera e fatto passare come misure semplicemente tecniche. E cosa ha comportato? Una trasformazione anche della preparazione delle forze armate italiane, degli strumenti bellici in mano alle forze armate italiane, perché un conto è essere preparati a dipenderci da possibili, anche se improvabili, aggressioni. un conto è se ti devi proiettare a migliaia di chilometri di distanza e rimanere in un teatro di guerra poi per mesi o per anni e deve avere un altro meccanismo e quindi tutto questo meccanismo è stato costruito attraverso ripeto provvedimenti apparentemente tecniche. Bene, non vi racconto perché no si farebbe poi alle 11 chiude dovrebbe continuare a parlare lì sul ponte C'è arrivata una buona notizia contemporanea con Claudia è arrivata ci possiamo restare fino a mezzanotte abbiamo comunque già terminato c'è la cosa grave la cosa grave che rispetto ve lo dico come mia esperienza io non mi metto in primo piano ma mi ricordo con Domenico Gallo Allegretti già allora andiamo parlavamo con parlamentari cercavamo di muovere eccetera ti promettevano qualcosa e poi non facevano non facevano non facevano praticamente e quindi si è visto questo nuovo modello di difesa sempre più praticamente assumere non solo la connotazione di modello militare ma di politica estera cioè la politica estera che è completamente sottratta ogni meccanismo effettivo decisionale anche parlamentare italiano vi ho detto qual è la catena di comando nella Nato ecco immaginate la guerra parte si decide altrove e ci saranno anche mani italiane in questa decisione d'accordo passa sulla testa poi anche ripeto del Parlamento e quando poi si arriva alla vigilia si prepara sempre ovviamente l'opinione pubblica perché accetti la guerra e allora quali sono gli strumenti ormai sono venuti a noia però purtroppo sono sempre efficaci e cioè si demonizza immediatamente un capo un leader eccetera e che non è magari una moletta intendiamo se no si sono uomini politici uomini di potere ma si gli si scarica addosso tutto e quindi si va da Saddam Hussein a Milo e quindi diventa diventa eh ma le strade non possiamo lasciare le strade unite negli Stati Uniti hanno elaborato i democratici di Obama una vera e propria teoria cioè il diritto di proteggere noi abbiamo no no scusate il dovere di proteggere abbiamo il dovere di proteggere quindi le guerre sono per ultima razza d'accordo ma per andare a proteggere che è massacrato dai suoi governanti quindi noi siamo andati a proteggere le popolazioni valcaniche dai perfidi massacratori siamo andati a proteggere quelli gli isegri si siamo andati a proteggere e stiamo ancora a proteggere quelli isidiani e così via e in tutto questo l'Italia è stata praticamente trasformata in una base avanzata di questa strategia noi abbiamo più di quanto la gente sa normalmente sul nostro territorio non abbiamo solo base abbiamo comandi tipo il comando di Napoli che hanno un'importanza enorme abbiamo il MUOS il MUOS di Niscemi che è questa una delle quattro stazioni quattro stazioni a terra di un sistema satellitare di nuova generazione che permetta di collegare le forze statunitensi alleate su scala mondiale il movimento dai sottomarini d'attacco nucleare alle portaere alle forze speciali che operano in afghani eccetera tutte collegate attraverso tale sistema e pensate che ci sono quattro quattro stazioni terrestri due sono nel territorio degli Stati Uniti una è in Australia e una è in Italia cioè in Sicilia e non a caso e abbiamo le armi nucleari ne avevamo molte di più durante la quattro fredda e abbiamo oggi armi nucleari che sono ufficialmente lo sappiamo bombe d'aereo B61 che sono stoccate ad Aviano e Ghevi fin qui arrivano le notizie ufficiali poi però c'è da aspettarsi che siano anche d'arte qua qui abbiamo Campodardi nessuno è andato a vedere né lunghe solterranei di Campodardi ha fatto dei grandi lavori se permette non siamo mal fidati ma un po' di dubbio ce l'abbiamo che non ci siano solo attrezzature per fare un ponte metallico eccetera no quindi detto questo ora l'amministrazione Obama che ha guadagnato il premio ricordiamo Obama ha guadagnato il premio 9 per la pace che è stato preventivo cioè prima ancora che si muovesse in particolare per i suoi sforzi per il disarmo nucleare ha avvalato il più grande il più grande programma di armamento nucleare ora queste entro due anni ormai il meccanismo è già partito queste bombe B61 vengono sostituite da un nuovo modelo chiamato B61-12 che però non è solo un cambio di sigla la bomba diventa intelligente cioè non viene più sganciata in verticale sull'obiettivo come queste ma viene sganciata a distanza dall'obiettivo e ha capacità penetranti cioè scoppia anche penetrando sotto terra cioè laddove sono i bunker per esempio dei centri di comando è la classica arma che chiamano la first strike primo colponzeare e noi l'avremo tra poco in Italia quindi noi siamo ormai in una morsa tra apertura del nuovo fronte tramite Ucraina eccetera eccetera a est e il fronte meridionale che non è certo terminato anche se il piano di demolire la Siria come avevano fatto con la Libia è fallito però non è finito siamo a un passaggio arriva Trump da qui c'è da aspettarsi di tutto d'accordo che però finora non ha fatto niente ci deve ancora andare la presidenza ebbene le ultime mosse dell'amministrazione Obama del primo nove per la pace si sono viste ora giovedì ieri oggi venerdì sono entrati in Polonia la prima brigata corrazzata statunitense che fa parte di un più vasto rafforzamento di tutte le forze dato a rigosso della luce sui confini dell'est questa è una mossa perché così Trump se avesse occasione di negoziare con Putin diciamo in qualche accordo si trovi anche di fronte a questi ostacoli ora di fronte a tutto questo io penso che è terminato non si tratta di andare in piazza a dire siamo contro Trump siamo contro Trump noi dovremmo andare a dire vogliamo essere liberi da condizionamenti esterni noi non possiamo far parte di un'alleanza dove il comando supremo aspetta sempre a un paese all'istrano di un'america non possiamo accettare bombe nucleari sul territorio nostro di un paese che ha firmato il trattato di non proliferazione e in questo modo lo viola quindi praticamente dare battaglia su tutti questi punti abbiamo creato questo comitato una guerra non nato per cercare di spingere diciamo in questa direzione i risultati sono stati in parte non sono in minima parte appesiti qualche risultato c'è non so stranamente siamo riusciti siamo tramite un referente politico a far passare al consiglio regionale della Toscana la nozione contro le armi nucleari in Italia per quello che possa valere però siamo indietro abbiamo lanciato una petizione che finora ha avuto circa 25.000 adesioni uno può dire vabbè abbiamo fatto tanto abbiamo fatto molto poco però ci dà anche la misura del fatto che se non hai in mano i media non hai in mano gli strumenti di informazione la lotta è veramente impari e giudizia detto questo noi la proseguiamo quindi la difesa della Costituzione nell'articolo che io ritengo è uno dei capisaldi in cui dobbiamo impegnarci qualunque sia poi l'orizzonte politico che noi abbiamo davanti ecco un orizzonte di costituzione di una vanguardia vera il grado di fare quello di cui abbiamo la mancanza ma anche la diciamo la costruzione di un fronte ampio di tutti coloro che non vogliono essere semplici sfruttatori ma vogliono essere cittadini consapevoli e artefici del proprio destino e del proprio futuro cioè questi sono i concetti su cui bisogna battere quindi ripeto l'articolo 11 è effettivamente uno dei punti fondamentali da tutti i partiti grazie 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 a tutti